Bene, lascia che ti chieda una cosa. La tua firma e-mail ti sembra brutta? Dai, davvero ti sembra bella? È conforme alle norme legali internazionali? Presenta la tua azienda come dovrebbe? Bene, ecco la novità. Quello che vogliamo dirti è che possiamo aiutarti. Che bello se potessimo far sparire questi problemi. Le aziende spendono un sacco di soldi per costruire la propria immagine aziendale. Ma basta solo una brutta e-mail per distruggere tutto in pochi secondi. Questo è sufficiente per preoccupare qualsiasi dirigente d'azienda. Perché una e-mail non conforme potrebbe costare alla tua azienda migliaia di euro in multe. Ecco perché ogni e-mail che parte dalla tua azienda deve presentarsi correttamente. Ok, aspetta un secondo, rimani tranquillo. Perché c'è la soluzione al problema. Crossware Mail Signature Quindi, cos'è Crossware Mail Signature? È una fantastica applicazione software che aggiunge automaticamente firma, logo e le informazioni di legge in tutte le e-mail in uscita. Sì! Quindi puoi dormire sonni tranquilli. Eh sì, la nostra applicazione software funziona anche sui dispositivi smartphone. Ehi! Non scherzare con il fuoco. Usa Crossware. Bu Fundazione Come 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 Grazie a tutti.